Eddi ha la pelle d'oca. Oh, una patologia incurabile. Non si ha la pelle d'oca senza ragione, è l'organismo che reagisce al freddo. Non aveva freddo, la temperatura era normale. Ma il suo organismo credeva facesse freddo. Cosa? Un problema cerebrale? L'ipotalamo alterato può causare la pelle d'oca, non porta a sputare sangue. Non ha problemi neurologici, ha avuto un... Io credo ci sia un'infezione. L'abbiamo esclusa perché non c'è febbre, né le ococite. Io credo ci sia un'infezione. Il sangue va dove serve, l'infezione adora l'omidiccio dei polmoni, allora iniziate con roba forte per infezioni batteriche, fungine e atipiche. E fate una biopsia polmonare, voglio vederlo da vicino, quel piccolo bastardo. Perché Foreman se ne va? Vuole allevare lama. Interessante. Anche tu ti vergogni della vera ragione. Colonna ha ripizzato. Anche tu girlfriende... ... ... Grazie a tutti